Ah! Se la vita non ti ha cambiato, allora hai fallito. Non siete altro che degli incapaci. Il progresso è servito dalla tecnologia non controllato. È tutta una questione di precisione. Sarebbe un piacere sterminarti. È quello il risultato che desideravi? No, almeno muori con un po' di dignità. Gli altri si frantumeranno senza di te. Sì. Odio gli intermediari. Non dare le tue idee per scontato. Potrebbero essere sbagliate. Il rimorso è ciò che rafforza la nostra anima. Corri ragazze, attenzione agli anziani. Io sono la soluzione. Per te è quasi finita. La tua strategia è piatta. Al vincitore le spoglie. Non penserai davvero di potertene andare così facilmente. Stai al tuo posto. Comportati bene. Te ne andrai quando te lo permetterò. Mi occupo di tenere a bada i lupi. Tutelo la sopravvivenza di Piltover. Sembra che due lame siano meglio di una. Il trucco è essere arguti e svelti. Ti ci vedrai meglio come tappeto da salotto. La storia della tua spada è giunta al termine. Ti mancano le capacità. Sei solo un mezzo per raggiungere uno scopo. La tua rivoluzione è così... singolare. Protocollo missione aggiornato. Non faccio parte delle tue milizie. Se devi fare una cosa, falla con stile. Non prenderla sul personale. Ti ha semplicemente dominato. Ritornerò. Resta qui. Tutto fumo, niente arrosto. Chiaramente non sei progettato per l'apprendimento. Elimina il forte e osserva il debole sgretolarsi. Attacca o scappa. La tua insicurezza è rivoltante. I protocolli di ripristino sono estremamente sopravvalutati. Cenere alla cenere. Tu cadrai. Hai scelto la parte sbagliata. Sei diventato obsoleto. Stavo aspettando l'attivazione della funzione. Non ce ne facciamo nulla di un nucleo corrotto. Purezza della forma. Purezza della funzione. Vado dove mi porta il lavoro. Tra me e la tecnologia c'è un rapporto complicato. Neutralizzato. La tua tecnologia ha sorpassato la tua umanità. Non tutti i cani vanno in paradiso. Tutta la classe e le maniere che mi aspetto da una zoonita. La paura è più affilata di qualsiasi lama. Il futuro è a favore della versatilità. Buffa questa cosa sugli eroi. Finiscono sempre per morire. Il tuo comportamento è inaccettabile. La mediocrità è l'origine di tutti i mali. Silenzio. Lascia parlare gli adulti. Il successo dipende dalla capacità d'adattamento. È stato glorioso. Fingere di essere innocenti è una perdita di tempo. È stato il paparino a comprarti quel fucile? Puoi anche correre, ma non ti aiuterà. La società ha bisogno di regole. Ogni questione ha sempre due facce. La mia e quella sbagliata. Aggiornamento stato. Bersaglio eliminato. Le ostilità si creano quando manca la gentilezza. Quando le basi non sono solide, le mura cedono facilmente. Il progresso annienta la sofferenza. Mmm, questo non era così stellare. Vengo a prenderti. Hai una formula per l'evoluzione? Attento a dove vai. Solo i vigliacchi scappano. Devi essere codificato come minion. È ora di dare una ripulita. Le carte non parlavano di un giorno di vita in più. Mi stai intralciando. Sei una nullità. Non fare tutte queste storie. I loro errori saranno la causa della loro fine. Previsione di oggi è la tua fine. Devo aspettarti mentre consulti le tue preziosissime rune? Le mie lame sono più affilate. Non è l'arma che ti contraddistingue, ma il modo in cui la impugni. Non mi sbaglio mai. I modelli producono debolezze. Stai per sperimentare un errore di sistema. La loro missione sarà terminata. Non è stato così difficile. Contrattacchi? Che opportunista. L'altruismo è così insignificante. A quanto pare non eri tu l'eroina. Intendevi fermarmi? Non penso proprio. So che cosa sono. E tu? L'umanità ha dimostrato la sua inutilità. Problema risolto? Ti manca l'intuito strategico. Non c'è posto in battaglia per le teatralità. La violenza è un mezzo per raggiungere uno scopo. La tua fine è stata già pianificata. Scimmia vede, scimmia muore. I tuoi errori illuminano la tua innocenza. Sono un'arma. Tu una specie di... Budino. Non è limusinare attenzione. È ignobile. Patetico. Bada come ti comporti. O lo farò io per te. La pazienza non è una virtù. È la virtù. La superbia costringe tutto in ginocchio. Invio dati. Obiettivo completato. Fine della corsa. Il dubbio continua a offuscare la tua matrice. Sei già stato dimenticato? Non sono la burattina di nessuno. Il progresso non deve essere interrotto. Verrai ingannato dalle tue percezioni mortali. Un altro passo verso la marcia del progresso. La tua progettazione è instabile. La codardia è più meschina dell'indolenza. Non riuscirai a sfuggire alle conseguenze delle tue azioni. Oggi ti è andata malissimo. Il mondo non è nero o bianco, ma una piacevole sfumatura di grigio. A volte le cicatrici sono in grado di conferire più fascino. Piantata e potata. I loro codici hanno dei difetti. Sei svelto. Ma io lo sono di più. È paura quella che percepisco. Il tuo codice sorgente è difettato. Frantumali. Il valore di un'arma si dimostra in battaglia. Non credo a tutte quelle eroiche storie sul tuo conto. La compassione è il tuo peggior difetto. Fai attenzione. Comanda solo chi ha o dubbi dire disposto. Sei diventato un intralcio per il progresso. È ora di eliminarti. Vincere significa essere migliori. Credi di meritare di più? Ti sbagli. Bersaglio eliminato. Che spreco. Considera pure il tuo obiettivo verso la purezza sbloccato. La scortesia va sradicata. Così diretta. Come gran parte degli stolti. Alquanto prevedibile. State al vostro posto se non mirate alla vittoria. Sono ciò che definiresti un bene negabile. La luce del progetto si affiebolisce. Ti renderò un elemento irrilevante. Piccoletto, ho valutato ogni esito possibile. Agisci di conseguenza. Ti ritroverai esattamente dove dico io. Sarebbe stato meglio non tornare in vita. La tecnologia verrà controllata. Questo è semplicemente il mio mestiere. Ah, piccola orrida bestia. Equazione chimica neutralizzata. Se ti manca il talento da combattente, abbia almeno il buon senso di morire. Immagino che dovrò darti una lezione. Credi veramente che scappare sia una strategia offensiva adeguata? Non distolgo lo sguardo dal bersaglio. Questo non è un lavoro per principianti. La gentilezza è tediosa. Io e te daremo fine a tutto questo. Ora! Prima generazione difettosa. Attende il tempo necessario e inizierai a vedere le crepe. Il buon costume è un ottimo servitore, ma un pericoloso padrone. Anomalia neutralizzata. Trova il coraggio dove puoi. Finché puoi. L'efficienza è la prima regola del successo. Sarò chiara. Ti ucciderò. Ragazzo dell'Eclessidra? Moccioso della Meridiana era già in uso? Le tue specifiche erano inadeguate. Un lavoro scadente. Buona fortuna per la prossima incarnazione. Le macchine prevarranno. Collaborerai. L'operosità trionfa sempre. Fai un altro tentativo. Sono grande abbastanza per sapere come vanno le cose. Meglio essere indipendente che schiavi. È ora di darci un taglio, bambolina. No, non sto giocando con te. Non allontanarti. Corri. Ti sei mai chiesta come mai tu sia sola? La verità, più che la menzogna, è un pericoloso offendente. Incosciente. L'esecuzione è intesa anche per i programmi. Voltare le spalle non annulla le tue cicatrici. Efficienza a tutti i costi. Mi è stato comandato di eliminarti. Abbiamo il controllo della vostra base. Siete degli ingenui. Seguo la mia missione. Non mi pagano per commettere errori. L'azione è alla base del progresso. Non si ottiene soddisfazione dall'uccidere, ma da un lavoro fatto bene. La tua resistenza ti porterà alla morte. Quel giocattolino non servirà a nulla quando sarai morto. Danza sempre con chi ti accompagna al ballo. Attenta, ragazza. Io sono il tuo futuro. Adattarsi o perire. L'inciviltà è la via sicura per una morte violenta. Saper aspettare offre le migliori ricompense. Com'è che si dice? Hasta la vista, baby. I tuoi limiti segneranno la tua fine. L'orologio di sistema è stato azzerato. Ragazzo mio, a nessuno interessa della tua piccola e ridicola città. A quanto pare ho tralasciato qualcosa. Lo avevo intuito. Spero che troverai divertente anche quando ti squarcerò la gula. Guardati intorno. Non cercare ciò che non vuoi trovare. Distrazione significa morte. Sei potente, ma io lo sono di più. Scarcio. La tua rivoluzione non ha più alcuna utilità. Siamo tutti dei mostri, dentro. E tu lo sei anche fuori. La pazienza mette alla prova le buone maniere. Il tuo sistema operativo era difettoso. Adesso state esagerando? Esagerando? Dove credi di andare? Il tuo padrone non ti ha insegnato a stare a cuccia. Immagino che il grado di umorismo sia proporzionale al livello di intelligenza. Le parole possono essere più taglienti di un coltello. Sono la trappola. Non ti allarmare. Non ho ancora finito. Inopportuno. È così che si comporta un vero professionista. Lascia stare i cappelli. E copriti meglio. Nulla di eccezionale per essere gentile. La compassione non è nei miei protocolli. Non ti ho dato il permesso di andartene. Ogni cosa ha un suo posto. E il pericolo sta nel dimenticarsi il proprio. Un'isola di distruzione. Affascinante. Salute. Nel tuo caso l'intelligenza è come un infelice incidente. Dimmi. È il terzo braccio che ti rende straglorioso? Non siate ruzzi. Attendo di ricevere la più grande ricompensa. La tua connessione è stata interrotta. Non essere spiritoso. Renditi utile. Ora capisco perché hanno cominciato di nuovo da zero. Una lama veloce vince gli scontri. Ma una mente acuta vince le guerre. La fortuna favorisce i benestanti. I tuoi tentativi sono vani. Oh, davvero noxiano da parte tua. Una lama affilata stringe i tempi. La tua arroganza sarà la tua eliminazione. Tutti abbiamo dei limiti. Forse io ho superato i miei. Io odio la neve. I risultati contano più delle parole. Mi chiamano quando falliscono le negoziazioni. Chi ti ha fatto uscire dal carion? Ah, ah, ah. Resterai qui finché io lo vorrò. Mi pagano per cercare i problemi ed eliminarli. Un loxiano, uno zoonita e un frigliordiano incrociano la mia spada. Fine. Scelta. Sbagliata. Un professionista non ha mai dubbi. E neanche l'alto comando noxiano riuscì a ricomporre Riven. La pazienza è ciò che separa i bravi cacciatori da quelli morti. Il progresso si basa sulla morte necessaria. Cosa succede se mi incontri in un vicolo buio? Un massacro? Che insolente. I vostri tentativi sono deludenti. La morte non lascia ambiguità. La precisione contraddistingue un professionista. Credevi davvero di poter scappare? È così che si risolvono i problemi. Non lascio testimoni. Quello era il suono dell'inevitabile. I soldi rendono tutto più facile. Tutti questi corpi, così poco tempo. È stata un bersaglio facile. Frammentazione rilevata. Cinture. Vestirsi da borghese di moda ora. La linea tra mortale e morto è sottile. È facile cadere negli eccessi. Difficile e mantenere l'equilibrio. Oh, guarda. È il peggiore di tutti i tempi. Questo è tutto ciò che sai fare? Nessuno piange la perdita di un traditore. Sei stato confermato difettoso. Un'ombra e un emarginato. Forbice. Batte. Carta. Oh, deve essere difficile ragionare con la tua testa. Ho perso la pazienza. Tanta apparenza e poca sostanza. Mi sembra di vedere me, ma in una versione più rosa. Non è il tuo giorno fortunato. Sterminio e aristocrazia vanno sempre a braccetto. La perfezione è una qualità che ti manca. Ci dovrebbero essere più donne indipendenti. Ti comporti come un imbecille. Devi chiedere il permesso se vuoi andartene. Chi sei tu per provare a fermarmi? Forza letale autorizzata. Prima regola del Bundle Scout Club. Sì, il migliore. Non dovresti avere un guinzaglio? Calcolato. Quanto tempo perso tra presentazioni e inchini. Questa tua ribellione inizia a diventare un ostacolo. Immagino che la morte sia la lezione finale. Non sarò vittima di inganni. La non curanza verso i dettagli produce risultati mediocri. Mi ringracierai quando tutto questo sarà finito. Aggiornamento completato. Quel gioco targoniano ti dona. Fai attenzione, ragazzo. Magari la prossima volta ci riuscirai. Gioca nelle ombre, a tuo rischio e pericolo. Beh, buona giornata. Eri un'arma? Buuuh. Gli eroi sono prede così affascinanti. Sei in notevole ritardo. Quel tuo cemelio è piuttosto limitato negli scontri ravvicinati. Sei così, sgraziato. Non funzionerà. La tua carenza strategica mi disgusta. Bersaglio neutralizzato. La debolezza è una virtù che non mi è mai appartenuta. Dati di ricerca ricevuti. Stai mettendo alla prova la mia pazienza. Fino all'ultimo sorso. Il privilegio va conservato a tutti i costi. La spavalderia è l'opposto di civiltà. Proprio come l'uomo. Tutto questo trambosto per nulla. L'ordine esiste per merito mio. Quello della pietà è un lusso che non posso permettermi. Questi tuoi potenziamenti saranno la tua rovina. Era un trucco o sei davvero stato così imprudente? Le tue doti sono alquanto scarse. Io non mi adego alle regole. Le stabilisco. La legge salvaguarda quando è salvaguardata. Eliminazione è riuscita. Non servirà a nulla a scappare. Attira la mia attenzione a tuo rischio e pericolo. Avresti dovuto colpire più forte. Quella melma mi è finita addosso. L'intelligenza artificiale non può risolvere la stupidità innata. Terminato. Se non tollerassi il sangue, non sarei brava in quello che faccio. Oddio! Qualcuno può standere un telo su questo rottame? Il risultato è ciò che conta. Non stai pensando in modo previdente. Sii avveduto. O puoi iniziare a scavarti la tomba. Nulla è più importante della propria missione. A volte le ambizioni devono essere controllate. Avresti dovuto affidarti di più alle tue armi. L'eleganza non passa mai di moda. Potresti servire per fare un po' di pratica decente. No, tuo fratello se n'è andato presto. Divertente. I miei obiettivi non sono affartuo. Bersagli acquisiti. Sono l'unica arma indispensabile. La tua logica era difettosa. Qui, cagnolino. I miei ordini sono chiari. Linea di comando ricevuta. Kill trattino nove. Deframentazione completata. Spera che il tuo nome non finisca nella mia lista. Sarai dimenticato ancora prima di morire. Rozzo fin anche in punto di morte. La tua relazione con il tempo ti ha solo portato a commettere più sbagli. Gli amari ricordi del passato non si addolciscono col tempo. La tua ignoranza è sorprendente. L'oggetto appropriato finisce nelle mani dei più agiati. La loro fine è inevitabile.